questi energy crystal servono sia per trasferire l'energia servono per trasferire l'energia ma non sono staccabili cioè non li posso mettere insieme evidentemente perché ognuno avrà la sua energia con due rubber no? ah si ecco quindi aia due rubber e un gold che bolla ok allora apri sta cesta apri la cesta non il pavimento allora 1,2,3 vediamo un po' spero che funzioni ah ah un'altra cosa interessante che ho scoperto è che l'auto workbench non accetta ehm gli ether quindi non li posso metterli all'interno io non lo sto schiacciando non mi li mette all'interno ma non solo quelli di micro base tutti non li mette proprio perchè non li accetta non li vuole che per lei gold cable oddio vanno così vera? per domani mi dici con attenzione di ritoglio io penso doldisci gold cable oddio vanno così vera dico anomalia , anomalia , anomalia ... anamalia e andiamo non ti desà Cosa mi serviva a cui servono a prendere e qualcosa? Cosa? 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 Allora, qui dimmi che ai due rubber band funzionano. mi faccio delle domande come andate a scuola? tutto bene? bei voti prendete? no 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 aspetta un attimo quanti me ne dovrebbe dare? quanto me lo scopro? uno yuppie mi serve altra gomma in realtà fermo no in realtà eccolo qui ecco c'è il cane che mi ignagola cane finiscila che mi rovini il video cane dove mi toccherà fare qualcosa continua scusate un attimo allora eccomi tornato dopo aver rimproverato a morte il cane eeeh fatemi vedere una cosa e allora niente è che prima invece di mettere pausa sbaglio ho messo stop e niente ho rotto il video eccolo qua eeeh si uso Camtasia l'unica cosa che ho che ho trovato allora gomma eeeh io ho gomma voglio stare aaaah poveri mori mettiamo le 40 voglio notare una cosa due fps ho lentissimo io la gomma come se ce l'avevo no no aspettate un attimo io ho bisogno di andare via al gioco fermi tutti un attimo se no io vi ho minecraft no ma ho a 3 eh io ho un po' se è vero allora ma abbiamo sta cesta la gomma non c'è si fa si passa alla prossima qua giù no ma due fps non si vuole registrare io ho tappo minecraft che cerca di aprire il muro poi eeeh altre rubber bar ci sono qua ma di gomma non c'è niente che cattivo che ah mi scusi io devo riuscire allora che schifo non è che un pezzettino di gomma che vergogna mi sto vergognando ah no niente non è vero allora mi servono i giorni infatti due ce l'avevo quindi non mi servono quattro tre quattro allora che tempo fa da voi c'è ancora il cane lo devo riproverare però non lo farò perché so che sicuramente sto per all'idea andiamo a fare no scusate un attimo io qui ho bisogno di riavviare il gioco guardami ma metto in pausa e ci vediamo dopo andrò a riavviare ciao ciao allora eccomi tornata come potete vedere adesso non erano 12 un attimo fa ah vabbè ok perfetto togliamo sta roba che ci serve ok ho capito che sono 12 fps però la casa ma devi caricare perché se no io cado nel vuoto faccio una figuraccia capito minecraft oh allora mettiamo così le nostre due belle rubber bar tanto per crata con il granano e esatto ora dovrei ecco sarà tornata a 0 fps 0 non è possibile 0 chiude giù e io 100 esplodo capito minecraft allora induktion no electric furnace dentro sti occo taxi per un po' prima lo so non so non ci sono i passi però non deve scaricare solo un giorno deve scaricare e non puoi mai salire il suo giocatore ma mi selezioni questa cosa via non te lo merito di usciutare qui oh andiamo tanto no 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 dai arriva due fps sono felice proprio tanto ah avete notato che ho fatto i buchi alla casa di finestrele perché avevo bisogno di legno e ho spaccato un po' quello non se ne ho accorto che nel laboretum ce n'era tant'altro di legno mi ho preso quello alla fine ok via via un tanto di cratti andiamo a prendere la roba di sotto ci devo fare il machine block allora mi scendi please mi scendi please vuoi scendere? buon inizio ad essere forte micratt eh allora un attimo 5 minuti a 10 devo stoppare l'altro era una ventina di minuti devo stoppare per forza meglio però potrei continuare no vero se no poi ci mette 40 anni a vendalizzare via sta roba via sta roba mi sarebbe lo smisto molto c'è via sta roba grazie micratt allora sto finendo finalmente il mio pacchetto di mod delle smod monia sempre 64 non ne ho cambiate perché sto fixando molti errori che riguardano come lo metti no non mi dire che nell'autowork ben c'è sta roba non ci va noi volevo stare le vecchie serie in cui c'era ancora la vecchia versione di minecraft in cui con la red power quindi l'attuale project red c'era anche la project table ma la project table la prima di che era una crafting table per chi non lo sapesse minecraft ti prego non andare a 2 fps adesso prima stavo scherzando con 3 con 3 3 3 3 3 ok quindi penso che finiamo sta roba e chiudiamo il video non so se riuscirò anche a mettere il video allora e il machine block c'entra ovviamente il cuore di macchine di macchine un MF grande 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 adesso andiamo a spaccare la vecchia fatbox che dite si carica se faccio così vabbè un po' di energia persa non è non è che serve anche ti togli tutta allora se adesso lo spacco la perdo mi arrabbio no 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 questo non si fa mai prima non me la spacchi con quell'altro adesso pretendi pure che io voi non fate male quindi a casa eh pretende che io ecco vedete ho 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 vogliamo ho ho vogliamo Allora Stacavolo Vabbè sentite Io adesso chiudo il video E lo faremo nella prossima puntata Ad attaccarlo 3 2 1 Ciao a tutti alla prossima puntata Ecco, bravo Minecraft Ciao a tutti